Buongiorno signore e signore, io sono Duca di Baionette e mi occupo di scrittura creativa. Oggi vedremo un'altra domanda che fa parte della guida ducala, la selva della formazione narrativa, bla bla bla, quel cavolo che è. Ovvero una domanda dedicata a dei problemi che un mio corsista ha avuto affrontando il manuale, ve lo faccio vedere subito, vediamo l'inquadratura, ecco qua, l'arco di trasformazione del personaggio di R.R. Marx, che come sapete è un manuale particolarmente famoso per il fatto che le persone lo leggono, non lo capiscono, poi fanno il mio corso base, capiscono tutto e vengono a dirmi ho capito questo libro quando ho fatto il tuo corso base. Ormai è celebre per questo in Italia. Bene, allora, leggiamo cosa mi scrive Patrick, è molto interessante, piccola premessa, non potrò rispondere in modo super dettagliato a tutto perché chiede cose estremamente specialistiche che fanno parte di lezioni che si trovano o già adesso pubblicate nel corso avanzato di sceneggiatura o che verranno pubblicate a breve, ok? Sono cose molto fini, molto dettagliate, vi spiegherò nei limiti del possibile, ma senza la spiegazione estesa completa non potete veramente capire la risposta. Bene, leggiamo la domanda di Patrick. La Marx parla anche di arco tragico, ma non va mai in fondo alla questione e lascia alcune domande in sospeso, a differenza dell'arco eroico che invece tratta per tutto il saggio. Se vi ricordate anche nel mio corso base vi ho anticipato che lei è l'arco tragico, lo sbologna un po' così così, come del tipo lui non si trasforma, lui non cambia. E vi ho anche detto che è sbagliato questo approccio, è il meno interessante. Comunque, continuo a leggere così c'è Patrick. A pagina 173, alla fine del paragrafo, che inizia con non è la relazione fisica, ma la relazione interiore, viene detto che il midpoint è la nuova consapevolezza interiore che spinge ad agire in una nuova direzione, cioè il momento di trasformazione. Classico. Alla fine della pagina 175, al paragrafo che inizia con il midpoint è anche un punto importante, credo che poi accennasse al fatto che viene svelato un segreto sull'antagonista, poi non sono sicuro, così a memoria. Viene detto che già al midpoint si può distinguere tra arco eroe che arco tragico, è certo. Perché l'eroe protagonista, sta citando, l'eroe protagonista comincerà a comprendere, a far suo tale valore, mentre il personaggio tragico lo ignorerà o lo disprezzerà. Ok? A pagina 213 abbiamo anche la figura che ci fa capire l'andamento dell'arco tragico e a pagina 214 ci viene detto che un andamento tragico può diventare eroico nel secondo punto di svolta. E questo per esempio è una finezza che non va sottovalutata, perché la Max non la spiega per bene, io nelle lezioni sì, perché è proprio una finezza che ti cambia tutto. Sia per le storie veramente tragiche, sia per le storie che cambiano. Ecco, questo è il disegnino che diceva, scusate che non vedo se lo vedete. Ok. Per rappresentarvi l'andamento dell'arco tragico vi fa la differenza tra quello che dopo l'esperienza di morte alla fase di discesa che poi ha una risalita, quindi superamento, ok facciamo un archeo eroico, superamento, caduta nel senso che in teoria sta vincendo, ma sta vincendo in una direzione che lo porta a una sconfitta con l'esperienza di morte. Forse vi ho accennato in uno o due video fa pubblicati che a me non piace questa cosa, perché la fase di discesa... è vero che c'è la fase di caduta, col fatto che poi la fase di discesa è graficamente simile, che la post-esperienza di morte e quelle cose vanno male, a me non fa impazzire come rappresentazione. Cioè capisco il senso, è come dice la Marx, è come una collina, la fase iniziale di resistenza è la grande salita, arriva in point, poi va in discesa, ma lei la chiama caduta, che non ha un'impressione positiva, che è anche vero, perché non stai veramente vincendo, stai vincendo, ma con una sfumatura del difetto fatale sbagliata che fondamentalmente ti porta poi a una serie di vittorie di Pirro o a una serie di vittorie che risultano poi inutili di fronte alla grande sconfitta dell'esperienza di morte, che però a sua volta in un arco eroico si arriva a capire che non è tutto perduto, come ho già spiegato, si arriva a capire eccetera eccetera che in realtà a parte una sfumatura si era capito giusto, discesa a post-esperienza, ma trasformazione e si affronta il climax, capito? e le fa vedere invece quest'altra cosa, nell'arco tragico la caduta prosegue in una caduta ancora più a fondo. Ho un buco che prosegue, chiaro? Buono, non sto a leggere pezzo per pezzo i punti che mi ha segnato, mi fido delle domande che mi fa, dato penso di aver inquadrato correttamente la situazione da quello che ricordo, e andiamo alle domande che mi fa. Le domande che mi sono fatto, se l'arco eroico sarà fino al punto di rottura e incontro una nuova consapevolezza nel midpoint, classico. Midpoint, il personaggio dice no, cazzo, e cambia, trova la forza di cambiare, con varie modalità, varie possibilità, cambio graduale, cambio improvviso, vi ho fatto l'esempio anche con le spiegazioni tratte dal colloquio motivazionale con un manuale di psicologia, su come il cambiamento improvviso poteva anche essere più realistico, eccetera, eccetera. C'è questo discontro valoreale, varie cose psicologiche. E fin qui tutto bene. L'arco eroico, come l'ho spiegato anche io nel corso base, è chiaro? Poi, l'arco tragico, come fa ad arrivare a un punto di rottura se poi l'arco tragico è definitivo a non cambiare internamente? Ecco, qui l'idea dovrebbe essere la max, sono due le possibilità principali. La max ti dice non cambia un cazzo, nel senso che mentre il personaggio tragico lo ignorerà o lo disprezzerà, ok? E tu giustamente dici ma se non cambia niente, cioè, che famo? Tecnicamente puoi fare poco. Infatti, poi Patrick dice, poi ti do l'altra soluzione, dato che l'arco tragico rimane attaccato al vecchio sistema di sopravvivenza, cioè al difetto fatale, la caduta sarebbe un aumento di conflitto con le solite caratteristiche intende del personaggio che avevamo alla salita, quindi, è un gran codardo, un gran codardo, chi doveva smettere di essere un codardo, no, continua a essere un codardo. E giustamente Patrick dice, le azioni del personaggio non rischiano di diventare ripetitive? Eh sì. Infatti, il mio consiglio è un altro, vabbè, ho detto che non avrei messo troppi dettagli alla corsa avanzato di sceneggiatura ma devo metterli. Puoi intensificare o variare il difetto fatale. Lui prima potrebbe essere troppo cauto? Nel midpoint potrebbe letteralmente avere un'esperienza del tipo oh mio Dio, sono quasi morto, potrebbe diventare una persona che di fronte alla possibilità di morire si paralizza. Potrebbe diventare da spaventato dalla morte e molto cauto aterrorizzato dalla morte. Può cambiare ancora di più. Oppure può essere diverso. Prendiamo ad esempio il poliziotto nero di Arma Letale. Prima è troppo caro. Il poliziotto nero di Arma Letale ricordiamo che è coraggioso. C'è la scena negli uffici della polizia in cui assalta il personaggio del poliziotto bianco pensando che sia un criminale eccetera eccetera. È coraggioso. È coraggioso ma è cauto. È preparato, è coraggioso ma è cauto, ha troppo da perdere, ha una bella famiglia, quello che vuoi. È troppo cauto, rischia così di finire male. Ok? Che succede? Nel nostro midpoint, in questa storia alternativa, il nostro poliziotto con queste caratteristiche vince proprio perché tira fuori le palle e ritrova il vecchio coraggio di una volta senza la cautela che fondamentalmente gli sta permettendo di avvicinarsi alla pensione e lui dice no cacchio, la cautela che ho adesso rischia di farmi ammazzare e torniamo a come ero quando avevo 30 anni. Ok? ho 25-30 anni prima. Non so che anche età poteva andare in posizione con un poliziotto americano. Così ci vanno proprio. Che cazzo ne so come funziona. Comunque, può essere che addirittura avendo questa vittoria perché è tornata a fare il giovane spavaldo, coraggioso, pistolero, eccetera, lui diventa addirittura arrogante. Quindi possiamo passare da troppo cauto all'opposto, troppo spericolato. Arrogante, troppo spericolato, fate voi. Vedi, in questo caso comunque le cose andranno male. Prima andavano male per un motivo. Adesso andranno male per quest'altro. Tu potresti dire ma potrebbe essere un arco eroico? Certo, potrebbe essere un arco eroico se vogliamo. Può essere che diventa più coraggioso, comincia a vincere, poi nell'esperienza di morte essere così tanto più coraggioso è un problema. Oppure potrebbe andare male subito. Dipende cosa vuoi fare? Perché quello che conta alla fine per essere tragedia o meno sarà il secondo punto di trasformazione. Mettiamo che facciamo una storia dove al midpoint lui passa da essere troppo cauto e codardo a troppo coraggioso. se vogliamo una direzione che permetta di arrivare o a un arco di trasformazione eroico con delle forti perdite. È una mia definizione, non ve la dettaglio adesso, è una cosa che scoprite facendo il corso avanzato di sceneggiatura. alla data in cui sto registrando non ho ancora spiegato queste cose nel dettaglio. 2022 troverete tutto probabilmente già a gennaio. Comunque sono proprio le cose che ho in bozza da completare. Comunque mettiamo che noi facciamo che lui diventa arrogante diventa coraggioso comincia a vincere a livello esterno ma con perdite importanti. chi si distrugge l'auto un suo collega rimane ferito cioè vediamo che c'è qualcosa che non va. Questo è diventato un botto coraggioso ma le cose vanno male. Sembra che vanno bene ma con i danni che ci sono sono vittorie di Pirro. A questo punto è una esperienza di morte. Troppa arroganza troppo coraggio troppa mancanza di cautela lo porta insomma è squilibrato tra l'approccio giusto e l'approccio sbagliato ha scelto un secondo approccio sbagliato lo porta di fronte appunto a un'esperienza di morte. Può essere che viene ammazzato il suo collega il suo amico collega più importante può essere che se la storia parla di amore appartenenza rapiscono la sua famiglia quel cavolo che ti pare ok? A questo punto abbiamo due possibilità l'arco tragico che prosegue con lui che da un errore ha fatto un altro errore e macina nel suo errore peggiorando la situazione quindi oh mio dio che schifo eccetera eccetera e fa un disastro ok? Oppure l'arco eroico in cui riequilibra le due cose unisce coraggio e cautela ed è in grado di pianificare quanto necessario per vincere nel climax può arrivarci entrambi ok? Uno sa un arco eroico con parecchie perdite che sono avvenute tra l'altro nella seconda metà del secondo atto e l'altro sa un arco tragico fu una fase che sembrava quasi vincente quasi perché poi lo vedavamo quanto stava perdendo per quanto apparentemente stesse anche vincendo chiaro? bene quindi in questo modo già abbiamo evitato che diventi troppo ripetitivo sembra quasi un arco eroico tra virgolette ok? altrimenti si rischia di essere ripetitivo è un gran codardo è un gran codardo è un gran codardo arriva al midpoint è ancora più codardo oppure no se me lo fai ancora più codardo lo puoi variare come nel caso diventa terrorizzato del tutto alla morte me lo fai ancora codardo è codardo che palle c'è sempre le stesse robe sono variamo un po' no? puoi variare sia in estensione amplificando quel difetto a tutti gli effetti però amplificandolo diventa un altro difetto perché devi dargli un nuovo nome vi invito a farlo oppure diventa un altro difetto diverso diverso ma compatibile come reazione in trasformazione ma ugualmente sbagliato per vincere chiaro? voi direte ma cosa cambia allora col difetto fatale che superati in modo positivo ma con una sfumatura errata questo è più apertamente sbagliato infatti vi ho detto ha più conseguenze negative se volete mantenere un tono che dà la direzione che si va verso la tragedia intendo poi sono scelte vostre in realtà non c'è tragedia e arco eroico e basta c'è una valanga di sfumature in quelle lezioni che vi ho detto che adesso ancora non ci sono ma brevissimo ci saranno perché devo solo completare gli appunti dire pace pubblichiamoli e poi se vorrò aggiornarli ampliare altre cose lo farò in futuro tanto io regolarmente vado a rivedere le mie lezioni e capita magari che faccio delle aggiunte tipicamente faccio lezioni extra perché aggiunte le lezioni già presenti la farò ok proseguo con la domanda di Patrick perché sono varie domande per cui andiamo avanti questa spero sia abbastanza chiara ci sono tante opzioni so che è così un po' confusionario ma vi serve avere tutte le spiegazioni dettagliate del mio corso per capirlo meglio sfortunatamente la Marx si è impegnata poco però vi invito a ricordarvi quando la Marx dice può diventare eroe con il secondo punto di svolta è un elemento importante io lo spiego col concetto di lieto fine nelle tragedie usando Shakespeare sì ok lieto fine la tragedia non avviene sempre per quel motivo può avvenire per altri motivi lieto fine l'ambientazione classico ma è un'ottima scelta per avere un personaggio tragico che è un paro nel culo ma che ha quel piccolo riscatto nel finale per cui sì lui viene sconfitto ma salvando un qualcosina magari muore lo stesso ma ha fatto un qualcosa di bene che moralmente lo riscatta oppure riesce a sopravvivere ha perso tutto ma ha capito dei suoi errori ed è una persona migliore insomma non è il ciula di quei bravi ragazzi che nel programma testimoni ancora disprezza le persone normali non ha capito che fare il criminale è uno schifo e che essere una specie è un mafioso non mi ricordo più era la cosa sbagliata Anquano l'ha capito non è il personaggio così è più il personaggio che perso tutto sconfitto e nel programma testimoni capisce i propri errori che essere un criminale è sbagliato e in fondo a questo punto è abbastanza grato di fare una vita normale in cui si fa la coda alle ponte ha capito che non deve disprezzare gli altri perché ha un lavoro normale ok l'opposto di quello di quei bravi ragazzi ecco per farvi un esempio poi appunto nel mio corso troverete gli esempi dettagliati poi Patrick dice mentre nell'arco eroico l'esperienza di morte porta il protagonista a voler tornare sui passi iniziali e a prendersela con il nuovo sistema di sopravvivenza cosa accade nell'arco tragico dato che non c'è stata una nuova consapevolezza e che ha tuttora la vecchia e come far riprendersi dall'esperienza di morte sempre riferimento a un arco tragico o non un arco tragico con una svolta eroica nel terzo atto ecco e un arco tragico puro potrebbe non riprendersi all'esperienza di morte come dice la Marx ciò che succede succede una cosa terribile che lo fa regredire ancora di più nel suo errore oppure se l'errore è rimasto uguale lo lascio uguale ma ti consiglio di fare delle variazioni dei cambiamenti se prima le hai fatto cambiare una direzione se lo fa ricambiare nella vecchia so che possono andare un po' fumoso detto così però avvi stare voi le lezioni che ho fatto per capire però per dirvi c'è un senso non lo so prima era troppo codardo poi diventa troppo spavaldo cioè troppo cauto non codardo poi diventa troppo spavaldo e non pianifica a questo punto lui ricade che si è tecnicamente adesso ha capito che può rischiare cioè ha capito è diventato più fisicamente coraggioso ma è diventato ossessivo dai dettagli di pianificazione perché ha perso troppo ma questa cosa lo porterà poi alla sconfitta quindi che facciamo esperienza di morte in cui rischia di perdere la cosa più importante possibile succede la cosa peggiore possibile che vuol dire rischia di perdere la posta in gioco ma non è persa attenta al boffito la storia ok rischia di perderla la sta per perdere a questo punto lui invece di fare discesa in cui regredisce poi esperienza che permette il cambiamento nel capire ma no cazzo ma ci ho arrivato tanto così no devo fare così è giusto che ciò che accadrebbe è una storia in cui magari l'arco tragico ha una svolta eroica che salva il salvabile io lo chiamo tragedia scampata per un pelo o arco eroico o una viconseguenza non so se ve l'ho già accennato invece di questo te è proprio lui che gli va tutto in merda ecco in questo caso nell'esperienza di morte radicalizzi il sorrere come se fosse un nuovo midpoint tragico in cui peggiora ancora di più e magari io vi direi raccatta il vecchio errore che aveva superato perché lui ha l'esperienza di morte quindi viene colpito nel oh mio dio il cambiamento che ho fatto è stato sbagliato regredisce nel vecchio sistema di valori e potrebbe che adesso unisce la spavalderia di quello che è capace di pensare di fare un assalto frontale alla fortezza della famiglia mafiosa rivale che non avrebbe mai fatto nella prima metà della storia ma ci unisce l'eccesso di pianificazione e cautela della prima metà della storia quindi alla spavalderia della seconda metà con i problemi della prima che è una comba abbastanza letale perché lui diventa non è che diventa equilibrato lui comincia a mischiare il fare una cosa paesamente suicida tipo assaltare da solo la villa dei criminali mafiosi modello videogioco mafia gli altri non li ho giocati mi sembra ho giocato il duo non ricordo più il primo me lo ricordo molto bene ho giocato un sacco di volte e mi divertiva sempre fare spavere le ville bello però lo fa con un'eccessiva pianificazione che lo porta a tutti gli effetti a perdere l'occasione migliore sta lì sta lì a osservare 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 e finora quando la situazione è peggiore perché magari la famiglia arrivare comincia a capire che c'è qualcosa che non va e intensificano la sicurezza e lui deve affrontare una situazione ancora peggiore o ti inventi altre balle quello che vuoi io farei una chiave interpretativa così e quindi poi in questa situazione lui ha tutti i difetti peggiorati affronta il climax ma non ha le forze di superarlo come avete visto macela nel suo errore è troppo spavaldo quando bisogna esserlo meno ed è troppo cauto quando bisogna esserlo meno e finisce sderenato nel climax chiaro quindi questa può essere un'interpretazione perché infatti poi Patrick mi dice siamo quasi alla fine della mail dato che nell'esperienza di morte accade la cosa peggiore che possa capitare al protagonista sempre parlando di un arco tragico cosa distinguerà l'esperienza di morte dal climax in termini di perdita nell'esperienza di morte è già avvenuta la perdita peggiore questo potrebbe sminuire la perdita nel climax ecco qui stai attento nell'esperienza di morte avviene la cosa peggiore che può accadere ma non vuol dire che è perso la posta in gioco se avessi perso la posta in gioco sarebbe già finita la storia lui ha tanto così dal perderla nell'esperienza di morte arriva tanto così dal perderla non supera l'esperienza di morte affronta il climax in una sì magari può aver avuto anche una metamorfosi ma una metamorfosi sbagliata cioè del peggioramento come detto prima quel mischiotto atroce di due difetti due difetti opposti tra l'altro quindi come una roba orribile invece di trovare un equilibrio immagina per esempio la differenza tra una birra equilibrata tra un forte amaro e la dolcezza del malto e tu c'hai equilibrata e immagina che lui invece in una situazione in cui hai una roba che la bevi e di base uh è dolciastra che schifo poi nel retro gusto uh cazzo che amaro intenso non è il top cioè perfino quando ragioniamo sul caffè napoletano quello fatto quei controcazzi quello buono quello fatto quei robusta seri che sono monsonati indiani ragioniamo che c'è una certa amalgama c'è una dolcezza ma non estrema a cui segue un amaro ma non estremo e questa separazione si bilancia in una danza che rende grande il vero espresso napoletano cioè stile napoletano che poi regolarmente non viene fatto sono delle cacate di espressi che fanno finta di essere così però idealmente ci può essere io ne ho provati un paio di caffè monorigine selezionati che mi immaginavo io che davano quell'effetto particolare erano dei robusto non monsonato indiano l'altro credo fosse un Tanzania credo no un java era un java anni fa bene vedete questo squilibrio può esserci e tu dici è meglio una birra equilibrata dove amaro e dolce si bilanciano come in una grande imperial stout o una che prima ti fa schifo perché è dolce e poi ti fa schifo perché è troppo amara ecco lui è in questa situazione ok quindi nella sua metamorfosi esce fuori con questa grandissima soluzione deve fare schifo or doppio ma in modi diversi esempio di prima che succede adesso perde nel climax la posta in gioco che prima stava per perdere adesso è persa definitivamente eccola qua capito si un pochino sminuisce la perdita nel climax nel senso che ormai lo sapevamo cosa accadeva era già arrivato un pelo viene solo confermato ma neanche così tanto ok bene per questo ascrivimento mi manca a disposizione saluti Patrick ok perfetto già finita penso di aver risposto a tutto so che la risposta in parte è lacunosa perché anche se io vi ho detto le cose più rapidamente come sono come stanno senza gli articoli di supporto intendo anche soltanto un articolo che già c'è adesso sugli atofine con le tragedie shakespearne e gli esempi capisco che si possa capire poco o addirittura che possiate capire in modo sbagliato però c'è il corso avanzato in sceneggiatura se volete tutto retroscena con anche poi le altre lezioni che usciranno a brevissimo mi decido a chiudere ste bozze le faccio uscire va bene così tanto cioè sono già giuste la mia solita ossessione che una cosa deve essere perfetta al 120% altrimenti non la pubblico però sono fatti mia vediamo per fine anno di farlo uscire così a gennaio l'avete e bene così quindi ultima cosa vi ricordo fino al 30 novembre alle 23.59 che è martedì avete la possibilità di sfruttare l'offerta del black friday con la possibilità di comprare a 700 euro il doppio corso di scrittura e sceneggiatura avanzato e ottenere in omaggio se ricordo giusto l'analisi completa dell'anno dell'omunculo 6 ore 44 divise in 11 lezioni con analisi dettagliata del primo capitolo del romanzo circa un 10-12% del romanzo non ricordo frase per frase mostrando esattamente la scrittura immersiva come è stata fatta tra l'altro una storia con i coprotagonisti figata tanto se non sbaglio abbiamo parlato di coprotagonisti forse nel video precedente assolutamente utile e le altre lezioni sono non mi ricordo quante ma in pratica credo un 3 urette delle sore 44 delle sore 44 circa 3 urette sono di analisi dell'arco di trasformazione di una storia tra l'altro con i coprotagonisti che mi ricollego adesso con la questione non posso fare spoiler ma è per dirvi che è come se fosse un arco eroico e un arco tragico mischiato in un bilanciamento che va a costruire una storia di coprotagonisti non posso entrare maggiormente in dettaglio sono spoiler è una chiave interpretativa del perché usare il coprotagonista che io adoro perché se me li fai soltanto vincere in simultanea tipo arma letale sono un po' eh così così è un po' del tipo anche dire ecco forse l'ho detto un paio di video fa ma non è che uno soltanto è protagonista l'altro è semplicemente un elemento privilegiato del conflitto di relazione se invece tu mi fai una roba dove uno cambia l'altro non cambia poi eccetera eccetera e si amalgano e poi l'altro è sconvolto perché questo è cambiato perché lui è cambiato ma l'altro no e bla 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 e quindi vanno e non si fidano e quindi si infrange il conflitto eccetera è tutta un'altra roba che dà veramente la motivazione per avere i coprotagonisti altra cosa che Dara Max non insegna insegna il modello facile come non ha insegnato un cavolo su come fare correttamente le tragedie e lo trovate però nel mio corso non insegna neanche come usare in modo veramente interessante perché il suo modo di usarlo in stile arma letale quando inti nell'ottica del dire perché uno è un protagonista e come spiegavo un paio di video fa mi sembra il fatto che in realtà ogni personaggio esistente e anche noi siamo nel corso di un arco di trasformazione e qui non c'è da un punto di accade la giustificazione del dire che quello è un coprotagonista e succedono cose sono cose abbastanza raffinate non ve le rispiego adesso guardate il video in cui parlavo di coprotagonisti un paio di video fa credo bene signori approfittate le offerte del back friday se già non avete i corsi io mi scuso per la voce un po' bassa sto avendo un po' di problemi di tosse così e così no sto bene per il resto sono un po' di problemi di tosse forse sto facendo troppe consulenze troppi video magari non ero più abituato e quindi signori bene così e al prossimo video buono studio un po' di problemi